Una meravigliosa pianta di bella donna, in piena fioritura, notate le palline nere, è sulla strada, sul sentiero che porta dalle piramidi della Betone alla casetta di Lapo e poi a Libra Aperto, è proprio sul sentiero, c'è la spiegazione, pianta medicinale tossica, direi anche peggio, mortale e si chiama Atropea bella donna, hanno fatto un palchettino, guardate la bellezza di questi frutti, se ne servono per la cura degli occhi, è un medicinale per gli occhi, guardate che fioritura, meravigliosa. Guardate al vicino, sembrano delle piccole olive, no delle olive grandi, non delle piccole olive, ma le olive sono più digeribili. E questo è il sentiero, sto rientrando, ho lasciato la macchina all'inizio della pista del fondo, ci vuole da qui circa 20 minuti.